Carlo a due giorni dal ritorno in campo della spalla in Serie A nella gara contro il Cagliari quali sono le tue considerazioni per questo risultato negativo che è maturato negli istanti finali? Mi dispiace tanto perché abbiamo perso i punti importanti per noi per la salvezza ma penso che abbiamo fatto una buona partita ma mi dispiace che abbiamo perso diciamo sfortunato Per te quella di martedì scorso è stata una gara molto particolare ovvero quella del tuo esordio in Serie A, che emozioni hai provato? Era molto particolare perché prima partita in Serie A tutti sappiamo che giocare in Serie A non è facile e secondo me erano emozioni buone e penso che così vado avanti E la tua prima stagione in Serie A che idea ti sei fatto invece del campionato italiano? Il campionato italiano è abbastanza difficile rispetto ad altri anche dove io ho giocato prima a Belgio, a Croazia, qua si lavora un po' più tattico e anche il livello di qualità è un po' più alto rispetto ad altri campionati Come è stato invece il tuo ambientamento in Italia e in particolare nella città di Ferrara? Mi piace, mi piace qua in Italia anche la vita è un po' più simile da la vita in Croazia e così sono abituato a vivere diciamo Si ritornerà in campo già domenica con la Spalli in trasferta a Napoli, che partita ti aspetti? Quella partita sicuramente diventa difficile per noi perché Napoli è una grande squadra, una squadra fortissima e noi dobbiamo cercare punti per noi che sono importanti Proviamo a dare il nostro massimo e così cosa succede vediamo domenica sera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti